Ok, allora amici, adesso sto chiamando in diretta, un mazzo di carte regolarissimo. Tutto mescolato, aspettiamo che risponda. Ti sento male, ti sento male, ah sì perché sono sotto al tossico, ascolta mi fai un favore, perché lo devo fare per un gioco che sto vendendo, no? E questo effetto si fa tramite telefono, no? Allora ti chiedo la cortesia, dimmi la carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi. La carta da gioco che vuoi? Sì, quella che vuoi, vai. K di cuori Asso di cuori? K di cuori K di cuori, sicuro? O vuoi cambiarla? Sì, K di cuori Ok, non vuoi cambiarla, vero? No, no Ok, adesso io mescolo le carte. Ora ti chiedo una cortesia, dimmi dei numeri tra 1 e 50, grandi o piccoli, vai. 20 Poi? 15 Sì, anche più piccoli, più grandi. 18 18 Sì, altri vai 22 Sì 24 Anche più grandi tra 1 e 50, puoi spaziare come vuoi. Vabbè, 34 Sì 36, quante euro? Poi vai dimmi un altro 38 Ok Fatta Tra 1 e 50 Cosa? Dimmi un altro ancora, tra 1 e 50, vai. Va bene, 27 Eh, poi? Poi 25 25 Ok Ultimo 23 Numeri piccoli anche? 8 10 Ok, ora tra tutti questi che hai detto, giusto? Scegli il numero, grande o piccolo che hai scelto. 10 Sicuro? Sicuro Al 100%, non vuoi 24, 28, no. No, 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 no. 10 Se la decima carta fosse chiaramente la tua, sarebbe un miracolo. Loro stanno vedendo. 1 Esattamente 2 3 Aspetta che tolgo 4 5 6 7 8 9 Questa è la decima carta, tu hai detto, re di cuori. Re Di cuori. Ti ringrazio gentilissimo, papà. Eh Ciao Dopo ti vedrai il video, è pazzesco. Ma io non vedo la tua cuori. Oh, è pazzesco, la decima carta, re di cuori. Te lo vedrai. Ciao Perfetto, ciao Ciao, ciao, ciao Ragazzi, qualcosa di incredibile. Ciao